Uno spazio che racconta emozioni, pensieri e storie con l'allegria del colore e l'espressione artistica della street art. Nasce così in pronte emotive l'opera realizzata interamente da un gruppo di ragazzi, adolescenti ed adulti in carico al servizio di salute mentale dell'Asla Sud-Est Zona Valdarno, su una cabina Enel in via Santito a Terra Nuova Bracciolini. L'associazione Aldebaran ha voluto dare una risposta creativa alla lunga chiusura legata alla pandemia da Covid-19 che abbiamo vissuto per dare spazio a giovani e adulti in carico al servizio di salute mentale di esprimere liberamente attraverso l'espressione creativa il proprio modo di essere e le proprie emozioni. Prende spunto da un evento avvenuto nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale La Gruccia del Valdarno in cui liberamente i pazienti ricoverati hanno realizzato disegni scritte spontanee sul muro e da qui abbiamo capito l'importanza dell'espressione artistica come mezzo di comunicazione delle proprie emozioni. I gruppi sono stati affiancati dal formatore Vincenzo Di Martino in Arte Ninjas che ha già affrontato con i ragazzi un corso di tecnica pittorica per graffiti. Io credo che questo sia un progetto veramente molto interessante e molto importante sia perché realizza una sinergia fortunata con dei siti positivi tra soggetti pubblici e soggetti privati e anche l'espressione di un approccio culturale alla salute mentale che è quello della salute mentale di comunità. Il progetto che va ad impreziosire e colorare uno spazio urbano sarà presentato sabato 24 giugno alle 10 in sala consigliare e subito dopo sarà inaugurata l'opera. Presenteranno proprio tutto l'iter, quello che è stato fin dall'inizio e quelle sono state poi le emozioni che i ragazzi sono riusciti a far arrivare attraverso appunto la realizzazione di questo murales.